E' tutto pronto per la festa di San Michele, per la processione, ne parliamo con il parroco della cattedrale, sono momenti importanti che precedono insomma quello che è il culmine della festa. Come sempre negli ultimi giorni il clima un po' si va riscaldando, anche se noi abbiamo cominciato già da giorno 21 sera a fare l'ottavario con la recita della coroncina e poi il canto della litania di San Michele e devo dire che i fedeli cominciano anche a incrementare la loro presenza, soprattutto i nisseni, i devoti. E certo i tempi sono cambiati, non è più come una volta quando salivano dalle campagne e riempivano la cattedrale, oggi le mutate condizioni sociali, economiche, organizzative della società, ne prendiamo atto, sono diverse. Però ecco la festa di San Michele Arcangelo è molto sentita da nisseni e noi facciamo di tutto per poterla organizzare nel migliore dei modi, anche con il patrocinio del comune che si fa carico delle spese riguardanti le luminarie, i fuochi di artificio, i manifesti e quant'altro. Partendo proprio dal manifesto vorrei riepilogare un po' il programma di questi giorni, a partire proprio da venerdì giorno 26, quando in cripta della cattedrale alle ore 17 faremo la presentazione di un volume intitolato lo spazio dei fratelli ed è una riflessione, un percorso di riflessione sulla realtà delle confraternite che a Caltanisetta si sono estinte, mentre in altri comuni della nostra diocesi sono abbastanza vivaci. Torniamo alla festa, ci sarà un percorso diverso rispetto al passato? Sì, quest'anno il percorso nella prima parte è immutato, però arrivando allo svincolo della ex standa, anziché proseguire percorso Vittorio Emanuele che oggi è impegnato per i lavori di rifacimento del pavimento della strada si salirà per via 20 settembre, ricordo che questa non è la prima volta ma è la seconda volta perché due anni fa in occasione della festa dei Tressanti, era il 28 dicembre per altri lavori in corso abbiamo fatto quella strada via 20 settembre, corso Umberto e poi piazza Garibaldi. Quali sono gli altri appuntamenti che precedono la processione del 29? Ecco, abbiamo detto del 26, il 27 ricorre all'undicesimo anniversario del nostro Vescovo che è stato consacrato qui nella nostra chiesa cattedrale e in quel giorno ordinerà due nuovi sacerdoti, due nuovi presbiteri che sono i diaconi Leandro e Massimiliano che conosciamo da seminaristi e che sono cresciuti qui nel nostro seminario è il punto di approdo del loro percorso formativo di una festa per tutta la Diocesi particolarmente per il Vescovo che è la guida e il pastore del nostro greggio e del nostro popolo questo il 27 e il 28 domenica la sera ci saranno i Vespri solenni subito dopo la Santa Messa quindi alle ore 18 e 45 il 29 tutte le sante messe regolarmente come la domenica ma quella delle 10 e 30 è la messa pontificale presieduta dal Vescovo e alla quale parteciperanno l'amministrazione comunale perché San Michele è il santo patrono di Caltanissetta e anche la polizia di Stato con tutti i loro invitati perché San Michele Arcangelo è anche il patrono della polizia di Stato e quindi la questura, il questore insomma le massime autorità della città saranno presenti nel pomeriggio alle 18 e 30 la Santa Messa presieduta dal Vicario Generale e alle 19 e 30 la processione a cui ripeto partecipano tutti e tre i sodalizi la Lega di San Michele Arcangelo per tradizione partecipa con tutte le insegne alla Messa delle ore 12 e che ammortizzate? vive io nella mia la mia la mia è che ammortizzate? vive io nella mia la mia la mia